Buongiorno a tutti, sono Andrea Salerno di Cantar e oggi con noi Simone Ballarini, Head of Consumer Insight e Business Development di Lavazza. Simone, volevo chiederti riguardo ai modelli econometrici che abbiamo visto, riguardo a quella che è la pianificazione cross-funzione aziendale a livello proprio di pianificazione, che cosa può essere lo sviluppo, come può essere interpretato lo sviluppo di questi modelli nel futuro e all'interno dell'azienda? Noi abbiamo trovato molto interessante la sperimentazione con Cantar, che non è una sperimentazione perché adesso è entrato nel tessuto vivo dell'azienda, perché è un modo bottom-up di rompere i silos, cioè ciascuna funzione ha un patrimonio molto ricco di dati, il marketing soprattutto dati media, ma chiaramente all'interno del sales ci sono dei dati molto importanti come leve di marca, che sono le promozioni, i tagli scone. Allora, avere un modello econometrico che permette di integrare tutte queste pariabili, permette anche di intensificare il dialogo all'interno dell'azienda e avere una predizione di business molto più potente, perché non è confinata all'interno dello scope di ciascuna funzione e non è confinata al set di dati di cui ciascuna funzione può contare. Quindi è stato un eccellente modo anche di fare team all'interno dell'azienda.